Nel breve tutorial di oggi andiamo a vedere come essere leggibili per l'airdrop confermato di Fusion X Finance che gira su Mantle Network. Prima di tutto, come sempre, anche per essere aggiornati, andiamo a seguire il loro account Twitter e il loro gruppo Discord e Telegram. Prendetelo come prassi così avrete tutti gli aggiornamenti in diretta. Successivamente dobbiamo spostarci su Chainlist e ovviamente aggiungere Mantle Testnet a Metamask cliccando come sempre su Adaptment a Metamask e andando a ricercare nella voce ricerca Mantle, Mantle Testnet. Dopodiché dobbiamo spostarci su FusionX.Finance.Faustet e andare a ricevere i Token Test. Clicchiamo su Send Twitter, andiamo a condividere un tweet, lo condividiamo, ci rispostiamo sulla schermata di prima e andiamo a fare la verifica del tweet. Autorizziamo l'applicazione e attendiamo. Perfetto, verifica effettuata con successo. Andiamo a copiare il nostro indirizzo di Metamask settato su Mantle Testnet, lo andiamo a inserire alla voce Copy Wallet e andiamo a ottenere i Token Test. Perfetto, Token inviati con successo. Dopodiché come al solito io vado a cancellare il mio Twitter, perché non è che voglio fare sempre pubblicità a chiunque e quindi vado a cancellare il tweet, tanto i Token sono stati inviati. Ora ci spostiamo su Fusion.Finance.Swap e andiamo a fare qualche swap di Token e aggiungere liquidità. Connettiamo prima il nostro portafoglio. Mi raccomando, usate sempre, in questo momento me lo sono dimenticato di dire inizio video, ma usate sempre un wallet dedicato agli airdrop. Non mischiate un wallet dove detenete i vostri Token che usate normalmente per gli swap, per holder, ma utilizzate un wallet nuovo di pacco. Magari usate anche un altro browser internet se non volete usare Chrome, perché avete Metamask installato per i vostri scambi, per le vostre avventure nelle cripto al di fuori degli airdrop. Una volta connesso il wallet, clicchiamo sul Token che abbiamo come disponibilità. Ad esempio, cambiamo MUSDT per FSX, mettiamo 5, abilitiamo, mettiamo numero massimo in questo caso perché tanto stiamo usando un portafoglio di test di nostro utilizzo e dei token test, ma normalmente andiamo sempre a settare il limite massimo di spesa che vogliamo utilizzare all'interno di uno swap. Attendiamo la connessione ed effettuiamo lo swap. Ora, per praticità di utilizzo vi faccio vedere solo lo swap, ma voi effettuate li con tutti i token disponibili. Più swap facciamo, meglio è. Andiamo a dare la conferma e la transazione è andata a buon fine. Adesso dobbiamo andare a dare liquidità al protocollo. Poi andiamo a fare questa prova. Andiamo a dare, andiamo a dare DAI più MUSDC, andiamo a selezionare V3LP, mettiamo 0,01, mettiamo un 25% e andiamo ad abilitare la liquidità. Anche qui facciamo il lavoro di prima. E a questo punto non ci resta che far altro che cliccare su Aggiungi. Potete dare ovviamente liquidità anche in questo caso con tutte le copie che avete disponibili. Una volta che avete dato la liquidità, dopo pochi secondi potete andare anche a levare la liquidità. Fate anche il passaggio di levare la liquidity. Per levare la liquidità si va di nuovo su Liquidity, si seleziona la copia che abbiamo appena aggiunto e si clicca su Remove. Diamo il massimo, il 100%, clicchiamo su Remove e togliamo la liquidità. Una volta che avete fatto tutte queste operazioni, non vi resta che far altro per avere più possibilità di andare su zlai.io slash c slash fusion punto finance slash quest board ma vi lascerò comunque sempre il link in descrizione se aprirà questa schermata e dovete andare a effettuare le task daily o comunque tutte le task o quasi tutte le task che volete fare, che riuscite a fare. Ovviamente più ne fate, meglio è come al solito. Grazie a tutti.